amici sono i compagnieri Federica Carossi ho il suo libro in mano mentre lei tiene in mano un altro libro di un'altra autrice allora non nasconderti dietro il libro e spieghiamo al pubblico che ci segue perché stiamo facendo questo messaggio perché stiamo per arrivare a Milano il 25 di aiuta, maggio allo studio miti Alzai, Aramiglio Grande numero 4 parliamo dei due libri parliamo di questo e parliamo di quest'altro Federica Carossi e anche Mara Di Noia Mara Di Noia che è un'autrice una cara amica una voce unica un'anima poetica che ha tantissimo da raccontare e ha davvero una scrittura splendida ve la consiglio quindi sarà un evento pazzesco con queste due donne scrittrici il 25 di maggio alle ore 17 al Zaia Naviglio Grande numero 4 in questo studio miti che è un posto incantevole pazzesco sarà un evento meraviglioso non dovete mancare posso? mescoleremo narrativa poesia arte veramente un evento immancabile vi aspettiamo a Milano sui Naviglio ciao 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 Grazie a tutti.